Siamo alla quinta tappa del biogas Fatto Bene Tour, siamo in Basilicata, in una realtà che è progredita in questi anni con l'impianto biogas, una realtà di allevamento di vacche da latte. Questo ha permesso di valorizzare il sottoprodotto delle vacche da latte in un'ottica di completa economia circolare. La nostra azienda è da sempre orientata verso l'economia circolare e l'impianto di biogas ci permette di valorizzare i sottoprodotti, gli scarti della nostra produzione. Dalla digestione aerobica infatti riusciamo a ottenere energia rinnovabile, termica ed elettrica mediante la produzione di biogas che va ad alimentare un cogeneratore e soprattutto riusciamo ad ottenere una soluzione agronomica mediante l'impiego di digestato. Adesso abbiamo affiancato a questo un altro progetto che riguarda proprio il compostaggio della parte solida dell'etame. Il progetto Forest Comba ha la funzione di realizzare una filiera del compostaggio, quindi una filiera foresta azienda azotecnica, così che dall'abbosco venga il bioditurato che viene poi utilizzato nell'azienda azotecnica per risolvere i problemi di gestione degli stessi reflui. Contemporaneamente dà un'opportunità all'azienda per produrre un compost stabilizzato di ottima qualità da utilizzare nelle produzioni cosiddette organiche e biologiche oppure addirittura da immettere nel ciclo economico dei fertilizzanti. Grazie a questa tecnica l'azienda IASI riesce quindi ad evitare qualsiasi spreco recuperando quello che altrimenti sarebbe uno scatto. Grazie a tutti.